Ciao a tutti, sono Marco Pirotta e oggi sono qua per presentarvi il Valco CBT Contest. È una manifestazione che abbiamo promosso per vedere le vostre abilità nella CBT, in quello che ormai sapete fare. Sappiamo che questa fantastica tecnica si sta diffondendo sempre più e voi siete sempre più abili, quindi vogliamo vedere quello che sapete fare. Il Valco CBT Contest, come tutti i contest, ha delle regole. È stato ideato da me in collaborazione con Valco e Grand Chef. Queste regole sono molto semplici, ci si può iscrivere fino alla mezzanotte del 20 luglio. Chi si può iscrivere? Professionisti, tutte le persone che hanno a che fare con la cucina e con la CBT. Cosa dovete presentare? Dovete presentarci un piatto, il vostro piatto migliore, il piatto che deve conquistare me e la giuria e deve essere tutto fatto ovviamente in CBT. Iscriversi al Valco CBT Contest è molto semplice. Dovrete andare sul sito ufficiale di Valco e seguire le indicazioni. Dovete mettere i vostri dati personali, il nome della ricetta, che tipologie di ricetta presentate, la ricetta spiegata nei dettagli e tre passaggi fotografici della vostra ricetta. Dopodiché ci vedremo in semifinale in Valco Academy il 23 settembre. Il contest, oltre a mostrare a tutti i vostri piatti, vi metterà a disposizione un montepremi di tutto rispetto. Macchine del sottovuoto Valco Line, Hydrochef, libri della CBT e Masterclass. Cosa aspettate di iscrivervi?